Questa esperienza è iniziata ad agosto del 2005, è iniziata con Luca Ceriscioli e si conclude adesso con Matteo Ricci. È stata un'esperienza molto interessante che si è evoluta nel tempo. Io ho sempre interpretato questa esperienza come non mi sono mai negata a nessuno e ho sempre interpretato questa esperienza come avere sempre il numero di telefono a cui telefonare per poter risolvere i problemi. Quindi l'ho interpretato in questo modo, cercando di risolvere i problemi che via via si presentavano nella città. Naturalmente questo ha creato anche delle cose simpatiche che, come dire, mi hanno indotto poi a modificare anche negli anni questo mio atteggiamento. Il lavoro è sicuramente molto pesante, però è anche molto gratificante. Io non mi sento stanco e quindi ho pensato di fare ancora un altro anno a servizio della città. Quindi non so dire in questo momento come mi sento, perché mi sento come uno che ha voglia di fare ancora un altro anno. Quindi vedrò come andrà questo anno ulteriore e lo faccio molto volentieri e spero che vada bene. Sulla stampa sei stato già definito tessitore, mediatore, risolutore di trame, più o meno visibile dall'esterno della città. Si riconosce in questa definizione? Mi riconosco in questa definizione perché fa parte del ruolo di capo di gabinetto, il quale, fra le cose, deve fare public relation, che non si possono tradurre come relazioni pubbliche, ma sono relazioni col pubblico e sono molto riservate. Il capo di gabinetto deve mantenere rapporti con tutti gli organi di Stato, con tutte le persone che contano in città, con la povera gente, col mondo sportivo, col mondo economico, col mondo sindacale, praticamente con tutti. Questo io credo che sia il ruolo di capo di gabinetto e quindi sono d'accordo con questa indicazione che lei dava. Ha citato il mondo sportivo, nei mandati sia di Ceriscioli che di Ricci, l'ha vista molto coinvolta appunto nelle relazioni soprattutto con la Vispesoro e con la VL. Non dovrebbe magari essere coinvolto così tanto il comune, ma ne è nata anche una sinergia positiva? Ma io credo che questo coinvolgimento dell'amministrazione comunale sia stato estremamente positivo. non tutti si rendono conto, anzi la stragrande maggioranza non si rende conto che se il comune non avesse svolto questo ruolo noi oggi potremmo non avere squadre per cui tifare. Il comune in momenti molto difficili ha svolto un ruolo di raccordo tra sponsor, istituzioni, tifosi, società, riuscendo a collegare il tutto e a tenere duro in un momento difficile cercando di promuovere la tenuta e lo sviluppo di queste società. Quasi sempre ci è riuscito, non sempre, ma quasi sempre ci è riuscito. Oggi se abbiamo società più solide e anche competitive e anche grazie a questo lavoro che c'è stato negli anni passati.